Quando il corpo di Osana viene trovato da Senpai o da Raibaru, entrambi hanno una reazione scriptata molto enfatizzata, in cui prima cercano di risvegliare Osana per poi arrendersi e chiamare la polizia e piange disperatamente. Con l'aggiornamento del 1 gennaio 2023, adesso anche le sorelle Basu hanno una reazione analoga quando vedono l'una il corpo senza vita dell'altra. A differenza di Senpai e Raibaru però, le sorelline non sono ancora state doppiate.